Maestre, sembravano tre normali clienti, poi all'improvviso si sono rivelati gli autori di un ride tanto rapido quanto deciso nel rapinare la filiale di una banca di via Bissuola. Con risolutezza, nonostante venerdì mattina la banca fosse frequentata da diverse persone, sono riusciti a farsi consegnare la liquidità disponibile e di leguarsi in pochi istanti. Il colpo è fruttato tra i 5 e i 6 mila euro. Sulla rapina indaga la questura e immagini girate dalle videocamere di sorveglianza interna potrebbero rivelarsi preziose. Grazie.